Gabby dovrebbe essere la volta buona partiti la libanese è in vantaggio con all'interno Yulita Dock che poi la rimonta all'interno e passa in vantaggio in terza posizione Zibane avanti a Tommy Krill in quinta a qualche lunghezza segue all'interno Marquez Warrior con a largo Gray Otrevi poi Harry Crami che recupera segue ancora Meritable con in coda Impact Yulita Dock decisa leader nei confronti di Zibane che si è sistemato in seconda posizione a precedere la libanese poi Atomic Krill ancora Marquez Warrior con a ridosso Gray Otrevi prosegue decisa in vantaggio Yulita Dock che affronta al comando la retta d'arrivo tallonata sempre da Zibane la libanese dietro ai primi è appostato anche Atomic Krill con all'esterno Girl of Trevi per linea interna Marquez Warrior sta allungando Yulita Dock nei confronti di la libanese Zibane Atomic Krill Marquez Warrior quindi più all'esterno Harry Crami e Girl of Trevi siamo a 250 dal palo con Yulita Dock che ha preso vantaggio allo steccato nei confronti di Marquez Warrior a centropista si propone ora anche Atomic Krill più all'argo Meritable nel tratto finale Yulita Dock attaccata da Marquez Warrior sul palo Yulita Dock poi Marquez Warrior all'interno risale Latta Star su Meritable e Atomic Krill andiamo a rivedere questo bel percorso di testa di Christian Di Napoli in sella Yulita Dock numero 8 che ha mantenuto la meglio fin sul palo dai tentativi di Marquez Warrior quindi sul palo 8-6 mentre per il terzo posto sono vicini all'interno il 7 di Latta Star allargo il 2 di Meritable mentre per il quinto posto è il 10 di Atomic Krill quindi per avere l'ordine d'arrivo completo dovremo aspettare il risponso del giudice d'arrivo per il terzo e quarto posto per il terzo posto per il terzo posto